10 anni più giovane è tornato e per ora è la nostra sfida più grande due persone un obiettivo andare indietro con gli anni una con il bisturi e una senza nelle prossime sei settimane il nostro preparatissimo team userà tutte le risorse disponibili per la madre di tutte le trasformazioni a brandire il bisturi il rinomato chirurgo estetico ian stanek 25 anni di carriera e 10.000 pazienti trasformati la chirurgia può essere drastica ma funziona decisamente e l'ambasciatrice dell'alternativa la truccatrice delle celebrità lisa elvich vent'anni nel settore la ragazza alla quale si rivolgono quelli che contano i cosmetici fanno miracoli il giusto tipo di make up può letteralmente ringiovanire di 10 anni difenderà tutto dal lago puntura ai trattamenti facciali nel tentativo di contrastare la lama ea dirigere il team una donna che conosce l'importanza di avere un bel aspetto maily in class star del pop musicista ragazza copertina e partecipante di un reality maily è perennemente davanti ai riflettori dei paparazzi in qualsiasi modo tu scelga di far tornare indietro il tempo la cosa importante è che sia il più adatto a te ma se vi siete arresi continuate a guardare abbiamo i segreti dei sorrisi delle celebrità i capelli dei vip e le ultime tendenze e mail in ci guiderà ad ogni passo nel bene mi sento al settimo cielo e nel male voglio ritrovare la mia scintilla con la lama o senza chi perderà il maggior numero di anni che la sfida abbia inizio grazie a tutti